id4 il nuovo suburbano totalmente elettrico motore elettrico da 150 kilowatt con una potenza di 204 cavalli un'autonomia di oltre 500 chilometri e un'accelerazione da 0 a 100 in appena 8,5 secondi infotainment da 12 pollici full touch screen con tecnologia idapp display viene a scoprirla in concessionaria dal 17 di aprile benvenuti nella nuova era Volkswagen